Quando si parla di droni in Puglia, il pensiero va subito a Grottaglie che è il punto di riferimento nella regione, nel sud Italia, su questo fronte. Beh sì, Grottaglie dal 2014 è il testbed per le attività aerospaziali innovative, ecco così è definito. A quel tempo iniziamo a lavorarci sapendo che era una strada lunga, oggi a Grottaglie noi accogliamo anche multinazionali, svizzere e svedesi, per svolgere attività attraverso l'utilizzo dei nostri laboratori lì impiantati e delle nostre tecnologie che andremo certamente ad ampliare. E poi a Grottaglie le nuove strategie di Leonardo, come anche apprenderemo durante il Dons Beyond, sono molto concentrati sullo sviluppo di nuovi prodotti militari e civili a guida autonoma, ovvero i cosiddetti droni. Quindi credo una grande coincidenza che dà un segnale anche di ripartenza di un settore che negli ultimi anni ha avuto a causa del Covid un po' di difficoltà.